Benvenuti in Blupura, dove l'innovazione e la sostenibilità sono al centro della nostra mission dal 2008. Quella di rispetto per l'ambiente non è una bandiera da sventolare seguendo le modi, ma una filosofia aziendale che noi perseguiamo con convinzione. Siamo infatti stati i primi produttori sul mercato mondiale ad utilizzare gas refrigeranti totalmente naturali come l'R290. Non danneggiano lo stato di ozono e danno un basso impatto sul riscaldamento globale. Abbiamo così anticipato ciò che poi sarebbe divenuto obbligatorio per legge a gennaio 22. Per nostra natura poi, considerato che produciamo erogatori d'acqua da connettere alla rete idrica, contribuiamo inevitabilmente a ridurre il consumo di bottiglie di plastica, offrendo una soluzione ecologica ed economica per avere acqua fresca pura sempre a disposizione. La nostra sede produttiva è progettata con un focus sulla minimizzazione degli sprechi. Ogni nostro rifiutatore è inoltre realizzato utilizzando il più possibile materiali riciclabili ed equipaggiato con dispositivi per ridurre consumi elettrici. Siamo certificati ISO 9001 e 14001, certificazioni che attestano qualità dei nostri prodotti e processi. Infatti gli standard ISO richiedono di stabilire un modello di gestione aziendale orientato alla totale soddisfazione del cliente, alla trasferenza e all'attenzione dell'impatto ambientale. L'innovazione è un altro punto di forza di blupura, che si traduce in una costante ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di prodotti. Ad oggi siamo uno dei pochi produttori che offrono soluzioni complete per i distributori d'acqua, integrando anche la tecnologia IoT per un monitoraggio in tempo reale del funzionamento, del consumo e della gestione delle macchie. Questo ci permette di garantire efficienza, sicurezza ed un impatto ambientale ridotto. Siamo inoltre stati dei primi ad incorporare intelligenza artificiale nei nostri processi. Un passo che ha ulteriormente ampliato la nostra gamma di prodotti. Il nostro ufficio ricerca e sviluppo è in costante fermento ed è solo grazie alla ricerca che siamo riusciti ad introdurre soluzioni innovative anche per le aree pubbliche, per il settore del viaggio, a completamento dei settori dove già siamo presenti. Vi invito infine a visitare il nostro sito web blupura.com, a seguirci sui canali social per scoprire tutti i nostri prodotti e a contattarci per qualsiasi informazione o richiesta.